la mia esperienza è passata in cina ho fatto tre anni qua molto belli molto molto positivi ho conosciuto tutti i vertici del calcio sia governativi sia federali è stata una bellissima esperienza per me sono stato molto gratificato dalla considerazione che sentivo nei miei confronti e allora ho deciso di dare una mano alla crescita di questa se possibile di dare una mano non sarà facile però se possibile dare una mano alla crescita di questo calcio la chiave del successo è stata del lavoro la crescita di questa squadra soprattutto a livello di mentalità io credo che anche questa squadra dovrà crescere soprattutto a livello di mentalità il calcio cinese non è così inferiore al calcio delle altre nazioni asiatiche come come si può far credere ma deve crescere la mentalità ci vuole una mentalità più più sicura più intraprendente più propositiva